Amici di Pianeta Giovani, appassionati di ciclismo, quella che stiamo per raccontarvi è una gara riservata alla categoria Dilettanti Elite Under 23, che si è disputata sabato 2 maggio a Botticino Mattina. Per la precisione questa è la 53esima edizione e come potete ben immaginare è entrata a far parte del patrimonio ciclistico, non solo per la provincia di Brescia, ma di tutto il ciclismo dilettantistico. In verità nelle prime due edizioni, risaliamo agli anni 1957 e 1958, la manifestazione era dedicata alla categoria Esordienti, ma dal 1959 sono stati appunto i dilettanti i protagonisti di questo appuntamento. La gara, organizzata dal GS Botticinese, ricordiamo valida per l'assegnazione del 53esimo Gran Premio Industria, Commercio e Artigianato del Comune di Botticino, è caratterizzata da un percorso diciamo un po' particolare, non lunghissimo. I chilometri totali da percorrere sono 121, distribuiti in 11 giri uguali. Molte curve e qualche leggero cambio di pendenza, ma sostanzialmente si può definire un tracciato veloce. Percorso interamente ricavato nel Comune di Botticino, con una variante molto interessante e particolare nella parte finale. L'arrivo è situato in salita, mille metri, divisi diciamo da un gradino a circa 500 dallo striscione, con sensibile cambio di pendenza nei 500 metri finali. Per essere più precisi, diciamo che una volta terminati gli 11 giri pianeggianti, la corsa si dirige in direzione Trattorie da Eva, dove i nostri atleti dovranno appunto misurarsi nel difficile tratto finale. La gara, che come al solito è stata affrontata a velocità sostenuta nel suo svolgimento, ha anche offerto spunti agonistici apprezzabili. In bella evidenza da prima i colori di casa, Deglio Gallina e Cremonese Lucchini. Ma presto, quello che poteva essere un allungo non eccessivamente preoccupante, si è trasformato in una vera e propria fuga molto pericolosa, grazie al bel colpo di mano operato dal portacolori maglia Arvedi Lucchini, in compagnia delle maglie Palazzago, che hanno saputo sorprendere gli avversali della Bergamasca, impegnati nel mantenere il proprio leader di giornata, Stefano Locatelli, coperto nella pancia del gruppone. Piccola in genuità, certo che non ha pregiudicato l'esito finale, e relativo risultato, in quanto la formazione, diretta da Gianluca Valoti, è squadra di rango e ovviamente in grado di recuperare lo strappo, ma non è certo stata cosa semplice. Davanti si pedalava tutta e per rientrare da dietro non si sono certo risparmiati. Il vantaggio in costante oscillazione non ha mai superato il minuto primo. Grande lotta quindi a significare di quanto la conquista del 53esimo Gran Premio Industria, Commercio e Artigianato sia un fatto importante. L'albodoro di questa gara ricco di nomi prestigiosi, ne elenchiamo solo alcuni per darvi l'idea della storia che questa manifestazione, negli anni, ha saputo scriversi con i fatti. Nel 1987 a vincere un certo Enrico Zaina, seguito l'anno successivo da Ivan Gotti, nel 1992 Giorgio Furlan, nel 93 Gabriele Missaglia, nel 94 Doppietta Bresciana con Fabio Balzi e Mauro Zanetti. Seguiti l'anno successivo, parliamo del 1995, da Daniele Contrini. Nelle edizioni più recenti, doveroso sottolineare la bella doppia vittoria, nel 2002 e nel 2003, di Daniel Kaileris, diretto proprio da quel Giorgio Furlan che fece proprio la gara nel 1992. Nella passata stagione ricordiamo il dominio della formazione di Luca Scinto, che vinse poi con Simone Stortoni, atleta diciamo scoperto proprio da Cesare Turchetti, oggi direttore sportivo della formazione di casa. Detto questo, ora torniamo a raccontarvi le ultime concitate fasi finali. Dopo aver recuperato la fuga citata poc'anzi, il gruppo si mantiene compatto, con solo qualche allungo in testa non particolarmente significativo. Le formazioni più accreditate alla vittoria finale, lo abbiamo sentito anche nelle brevi interviste prima della gara, sono Bergamasca e Palazzago, quindi a loro il compito di un controllo asfissiante in testa alla corsa. Ultimo chilometro e salita che incomincia a delineare l'ordine d'arrivo. Prova ad anticipare tutti Torres-Agudelo-Rodo in forza alla SC Cene-Valle Seriana e guadagna metri preziosi. Lo guanta ai 300 metri il portacolori della formazione di casa Delio Gallina, Tuare Vazamat che guadagna un po' di spazio sui diretti avversari e prova ad aggiudicarsi la prova. Spunta dall'ultima curva con qualche metro di vantaggio, si gira, tenta di rilanciare ma le energie sono finite. Da dietro con un cambio di ritmo formidabile lo rimontano Daniele Ratto e Stefano Locatelli che con un bellissimo testa a testa si confrontano nei metri finali. Eccoli, è Daniele Ratto a tagliare per primo la fettuccia davanti all'amico rivale Stefano. Grande fatica e grande gioia appunto per la formazione di Olivano Locatelli che ha certamente trovato in Ratto l'uomo di riferimento per le corse che contano. Grande stanchezza per tutti, le immagini non hanno bisogno di alcun commento. Come potete vedere in alcuni casi necessita anche una spintarella per evitare di crollare sulla linea d'arrivo. Rivediamo ancora la bella vittoria di Daniele Ratto che nell'ordine d'arrivo precede Stefano Locatelli e Luca Benedetti. Daniele Ratto, una grande gara, una grande prova di forza, raccontacela. Il finale a tutta, ho tenuto tutti gli ultimi metri, mi è andata bene dai. Ho parito gli ultimi scelto metri scarsi, sono uscito a saltare la catenica molto forte. Adesso è contento, due di fila anche ieri e anche oggi. Ringrazio la squadra perché mi ha aiutato tantissimo. La dedica più bella quindi? La dedica più bella? La squadra perché oggi hanno fatto benissimo. Mio fratello che mi sta sempre vicino. E poi io, vabbè, mia ragazza, mia mamma, tutti quelli che mi aiutano ad allenarmi. Stefano Locatelli, un bel secondo posto, una bella salita impegnativa. Eh sì, impegnativa anche la corsa perché nei giri piani comunque erano tutti molto nervosi. Poi è andata via una fuga numerosa in cui purtroppo abbiamo sbagliato anche lì a non esserci perché dopo abbiamo dovuto lavorare molto, soprattutto i miei compagni, per richiudere. Devo ringraziarli tutti perché hanno fatto davvero un ottimo lavoro e mi dispiace solo di non essere riuscito a ripararli con una vittoria. Però comunque un secondo posto buono e speriamo nelle prossime. Un pizzico di rammarico? Sì, perché è un secondo posto, comunque è sempre un secondo posto. Però d'altronde oggi Daniele è andato davvero forte e niente, gli ultimi 50 metri mi sono impiantato, non ne avevo più e d'altronde capita. La classifica di questa 53esima edizione del Gran Premio Industria, Commercio e Artigianato. In decima posizione Pirazzi Stefano, Palazzago. Nono posto per Torres, Agudelo Rodo, Valle Seriana. Ottavo, Tedeschi Mirko, Feralpi. Si piazza al settimo posto Colombo, Cristiano, Palazzago. Sesto Facchini, Patrick, Lucchini. Aggiunge quinto Tuareva Zamazza, Deglio Gallina. Quarto posto per Corrà, Paolo, Bivanese. Terzo Benedetti, Luca, Cremonese. Secondo gradino del podio per Locatelli Stefano, Bergamasca. E complimenti al vincitore, Bratto Daniele, Palazzago. Giornata impegnativa, com'è andata? Ma da parte nostra siamo molto soddisfatti perché sia dai partecipanti che anche dal bel tempo. Il pubblico ha risposto in modo egregio. Si spera che il prossimo anno di avere un momentino di qualità in più, non che mancasse. Però mancando i Veneti c'è sempre un po' di rammarico. I prossimi appuntamenti? Ma noi pensiamo di metterla in calendario ancora il prossimo anno perché ogni anno sa quale difficoltà che ci sono. Però binomale ogni anno diciamo sempre che è l'ultimo. Speriamo che sia sempre l'ultimo avanti così.